10 milioni di utenti si sono già iscritti all'app di MetaThreads, considerate il rivale di Twitter, a poche ore dal lancio. La nuova piattaforma è stata inaugurata con un messaggio di benvenuto da parte del creatore Mark Zuckerberg, mentre l'ingresso nell'Unione Europea è stato rimandato per ragioni normative. Il lancio di Threads arriva pochi giorni dopo, l'ultima battuta d'arresto di Twitter dal momento dell'acquisizione da parte di Elon Musk. Il sito ha perso molti utenti a causa di decisioni controverse del creatore di Tesla, come il licenziamento dei team di moderazione o l'introduzione di un abbonamento per avere accesso a un account verificato.